Radio W0, Radio W0, suona ciò che ami, più suona e più la ami. A 40 anni dalla morte di Aldo Moro, questa sera al Teatro Traeta di Bitonto, siamo liberi di ricordare lo statista, l'uomo, il politico, la persona. Ricordare e riflettere sull'insegnamento. Il primo insegnamento di Aldo Moro, sugli insegnamenti dovremmo dire, il primo insegnamento di Aldo Moro è il mettere la persona al centro di ogni cosa, al centro della politica, al centro della giustizia, al centro della vita come tale, l'importanza della persona su tutto. E poi è saper leggere il proprio tempo. Prima di dover dire che cosa dobbiamo fare per modificare le cose, cambiarle, dobbiamo essere interpreti reali del tempo che si vive, capirne il senso delle contestazioni, capirne il senso delle vivacità, capirne il senso delle novità, interpretarle e orientare il tutto per il senso, per il bene comune. Esiste un rischio attorno a Moro, attorno al caso Moro, di eccedere nella dimensione anche sociologica, storiografica, del caso propriamente detto, persino con tristi esiti sprettamente investigativi, dimenticando invece l'uomo Moro, che è anche un caso quello, un caso di tragica spiritualità, un caso di aderenza alla filosofia personalista, l'incontro con Cristo, quindi una dimensione, un approccio che sarà quello che stasera approfondiremo, l'approccio umano di Aldo Moro in quella tragica circostanza e poi, come diceva anche Dottor Quarto, proprio il suo ruolo strategico di persona capace di guardare al di là di quella che era la propria, in senso degasperiano, di quella che era la propria generazione, anche politica, e quindi capace appunto di uno sguardo assolutamente interessato alla realtà, proprio in una visione futura. Mi faccio una domanda scomoda, è un mistero che è stato risolto o continuerà a essere sempre irrisolto? A questo punto tutte le verità non verranno mai fuori, tutte sono venute fuori, il problema è collegarle, ma non serve più neanche collegarle, non è questo quello che è importante. Quando incontrai l'onore Moro una ventina d'anni fa, a Monopoli, proprio in occasione di un anniversario, provai a intervistarla, lei che non voleva assolutamente lasciare l'intervista, di che l'importante è ricordare appunto il Moro Uomo. Non serve della vita di una persona che ha dato tanto agli altri di costruire il senso di una verità che poi tanto verità non è stata più. La verità, quella più profonda, è nel Moro Uomo. Tra l'altro mi chiedo, come è stato, come è nazione, siamo capaci di affrontare la verità, che sia la verità quella con il maiuscolo, quella con il minuscolo, perché è dentro di noi che dobbiamo cercare come collettività una nazione. Oggi privilegiamo gli incontri un po' social, un po' troppo telematici, tecnologici, dimenticando la radice umana, che è quella che ci porta poi ad essere anche collettività, ad essere nazione. Siamo capaci di accoglierla, la verità, questo è il punto anche.